In diretta dallo studio di San Siro di Good Morning Milano va ora in onda la puntata di martedì 22 ottobre di Good Morning Milano Buongiorno, si oggi così, oggi iniziamo un po' così con l'annuncio ufficiale Anzi adesso prendiamo, Beatrice mi sa che dovrino avanti ti farò fare l'annunciatrice dell'inizio proprio Ti faccio fare, udite udite, capito, il cantore dell'inizio della trasmissione Udite udite, vorrei non da Good Morning Milano, inutile che mi parli sulle cuffie, non ti sento Insomma Beatrice mi parla dal dia del vetro, buongiorno a tutte, come state? Allora, come va? È martedì, avete superato il lunedì? Ce l'avete fatta? Perché siamo qua ancora questa mattina a sentirci insieme e lo so perché potete dirci come avete superato il lunedì Al 3317853555, sempre pronto qui a ricevere i vostri whatsapp, le vostre foto, i vostri audio, tutto quello che volete Noi siamo qui e lo riceviamo molto molto volentieri Dopodiché siamo qua comunque fino alle 9 con un po' di giornali davanti per leggere le notizie principali che ci arrivano sulla città Un po' di bella musica che quella non guasta mai, anzi serve per iniziare al meglio appunto la giornata In diretta fino alle 9, Good Morning Milano qui su Cristiano Radio, 96.2 FM, Dub Plus e l'applicazione per iOS e Android Lo so, sì, ve lo dico tutti i giorni, ma io devo fare in modo che vi entri nella vostra testolina per benino Così voi tutto il giorno state a scaricare l'applicazione, poi andate sul sito di Cristiano Radio Poi ci seguite anche sui social, poi andate sul sito di Good Morning Milano, poi andate ad accendere la radio Poi andate ad accendere il sito, poi andate ad accendere il whatsapp, poi andate ad accendere il podcast E poi Spotify, e poi Apple Podcast, e poi di nuovo l'app, e poi di nuovo Cristiano Radio, così tutto il giorno Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, 1968, Cristiano Radio, Good Morning Milano Beh sì, devo dire che l'idea di avere Beatrice che verdiva, tipo il gallo di Robin Hood, appunto mi suggeriva poco fa, ve lo ricordate Potrebbe fare tipo così, Fabio Ranfi e Beasi, van per la frequenza, Urca Urca Tirule, oggi splende il sol Potrebbe stifare così, entrare in tutta questa nuova sigla di Good Morning Beh ce l'abbiamo, a posto, siamo a posto così Vabbè, 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 dai, allora, voi come state, tutto bene? Come avete proceduto, come andate la lunedì, come andrà il martedì, cosa avete, che progetti avete per oggi? Allora, ieri io vi dico una cosa che ho fatto, che forse non l'avevo mai fatto No, ieri ci pensavo, ho detto, ma l'avevo fatto sì o no? Non lo so, non mi ricordo Sono andato al cinema da solo Io forse ero già andato una volta, ma non mi ricordo, forse perché ero molto triste Invece ieri sono andato proprio convinto e con voglia di andare a vedere questo film Che è Saturday Night Un film che racconta, non so se conoscete tutti quanti, il Saturday Night Live Una delle trasmissioni storiche della televisione americana Che inizia nel 1975, appunto, la sua messa in onda Quando il sabato sera è in diretta Una cosa che anche per gli addetti ai lavori dell'epoca era una pazzesca Ma il sabato sera è stato a casa con la mia famiglia No, invece si inventarono questa cosa Tantanto che infatti la NBC diede uno spazio a un branco E la parola è giusta Di scapestrati ventenni che misero in piedi uno show Che neanche loro sapevano bene cosa fosse Non riuscivano neanche a spiegarlo Boh, ce l'hanno fatta E da lì, nel primo cast, già fate il conto Che c'erano dei mostri sacri della comicità mondiale Non direi solo americana Tra cui Dan Aykroyd Quello di Ghostbusters, per intenderci Ma soprattutto quello dei Blues Brothers Insieme a chi? A John Belushi Che faceva parte anche esso Appunto del cast del Saturday Night Che poi diventerà poi Saturday Night Live Negli anni a seguire E che continua a sfornare grandi Eddie Murphy, vi dico uno su tutti Richard Pryor Ma sono passati di lì praticamente tutti Il cast di Brooklyn Nine-Nine Se avete mai visto quella serie di Ecco, è tutta, arriva tutta dal Saturday Night Live Tina Fey Che poi anni dopo farà una serie TV Chiamata 30 Rock Dove si racconta, diciamo In retroscena di un show comico Stile Saturday Night Live Tra parentesi 30 Rock Che appunto è il trentesimo piano Del Rockefeller Center Che è il palazzo In cui era la sede della NBC E la sede appunto di questo show Questo per dirvi cosa Che è in sala Solo tre giorni Ieri, oggi e domani Se siete appassionati di comicità Siete appassionati di televisione Di comunicazione Un giro ce lo farei È stato molto interessante Vedere il pubblico Che alle tre del pomeriggio Va in una sala Di un cinema In un centro commerciale Di City Life Perché eravamo in otto Eravamo praticamente 4-5 miei sosia Più o meno Tutti uguali Eravamo Più o meno E poi c'erano due ragazze Che secondo me Erano lì costrette Da qualche studio universitario A doversi sorbire 116 minuti Mi sembra Di film Fatto bene Però devo dire Fatto bene Che scorre via veloce Per la regia Di tale Reitman Che direte Ma chissà chi è Chi è È il figlio di Ivan Reitman Che era il regista Di Ghostbuster In cui c'era Dan Ackroyd Quindi insomma Rimane un po' tutto in famiglia I figli di Reitman Del regista Ivan Reitman Scomparso un paio di anni fa Hanno una grande carriera Alle spalle Dal punto di vista Appunto Dei film Il figlio appunto È il regista Anche dei nuovi Ghostbuster La figlia È creatrice Attrice principale Della serie Che trovate su Netflix Working Moms Ecco In cui anche lì Fa una piccola compensata Dan Ackroyd Insomma È tutto un po' in famiglia Famiglia canadese Oltretutto E questo era Orville Richard Barrell Al secolo Shaggy Con Bombastica A cui facciamo Tanti auguri Shaggy Happy Birthday Shaggy Happy Birthday E sì Perché oggi è il compleanno di Shaggy Nato il 22 ottobre 1968 Questa canzone Pensate È del 1995 Vuol dire che Il prossimo anno Fa 30 30 anni De galera No De canzone Però sono 30 anni Che ci ascoltiamo Bombastica Che ci ascoltiamo Shaggy Al secolo appunto Vi dicevo Oliver Richard Barrell Nato in Jamaica A Kingston Kingston Town Ok E poi Naturalizzato ormai Statunitense Americano Anzi ha fatto anche Il servizio di leva Lì Come si dice Il servizio militare Nei Marines Proprio È passato Al canto A 18 anni Pensate Si trasferisce La famiglia a New York E nell'87 Inizia a prendere lezioni Di canto A Brooklyn E poi Il mondo Riceverà in omaggio Bombastica In realtà È molto bravo A cantare Se lo sentite Shaggy Noi lo conosciamo Più che altro Per questa canzone Ma in realtà È uno che Che ha il flow Nell'anima Mi verrebbe da dire Proprio è uno Che ha le vibes Giuste Corrette Unisce Quella cosa Lì Giamaicana A quell'altra Roba di là Americana Quindi insomma È uno che Ci sa fare È uno dei più Grandi Anche potenti Producer Adesso Che esistono Nella scena musicale Americana Ne ha prodotti Tanti E continua Appunto A produrre Tanta 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 Gente Da quelle Parti là Invece Anche voi Producete Tanti Whatsapp E tutte le mattine Ce li mandate Al 331 7853555 Come quello Di Alberto Che dice Un saluto A te Fabio A Beatrice Che ieri ho sentito La nuova rubrica Sì Basta Anch'io sbaglio Non si chiama più Beatrice Si chiama Beasi Si chiama Diciamo La cugina Di La cugina Di Piazzale Piola Di Jay Z È diventata così È Beasi Ormai Z per Z Non la formica Ma la generazione E poi Un saluto Anche a Ginevra Che adesso Sta arrivando Appunto anche lei In redazione Buongiorno a tutti Quelli in ascolto Grazie Alberto Per questo buongiorno E poi La chiusa Ovviamente Fattuale Sempre di Alberto Che insomma Pragmatico Osservatore Della realtà Ci dice Oggi È ancora asciutto Spero ancora Per un paio d'ore Perché ho dimenticato Lo stendino Fuori di casa Per qualche secondo Un paio di consigli Anche per gli acquisti Un po' così Sapere cosa fare Magari Come spendere Tutti quei soldi Che avete accumulato In tutti questi mesi In tutte queste settimane E poi Dopo torniamo qua Con ancora un po' di musica Sempre qui su Crystal Radio Questa Come lo sapete benissimo È la Radio Libera Di Milano Crystal Radio E vi ho sicuro Quando dico così Non è che me lo invento io Andate a cercare Crystal Radio Su Google Magari aggiungeteci Radio Libera Vedete che verrà fuori Un bellissimo articolo In cui veniamo definiti L'ultima radio L'ultima vera radio libera A Milano Insomma Io ne vado fiero So voi Io vado fiero Di far parte di Crystal Radio E secondo me Anche voi Di ascoltarci Tutte le mattine Good morning Milano A fra poco E questo era L'ansorventi Con tu sei l'unica donna Per me 1979 Oggi Andiamo a scovare Nel passato Come state? Come va? Come va? Come va? Come va? 331-78-53-555 Il nostro numero di Whatsapp Pronto qui a ricevere I vostri Whatsapp E noi pronti Invece ad andare a leggere Le notizie Dai giornali locali E voglio aprirlo con questa Perché veramente Dobbiamo sempre farci riconoscere Dobbiamo sempre farci riconoscere Allora Sapete la polemica Milano sicura Milano insicura C'è chi dice che Non si può più uscire di casa C'è chi dice che invece Tutto la farsa E tutto Oggi sui giornali Leggiamo l'ennesima notizia Però che ci fa capire Che insomma Veramente a volte Però raggiungiamo dei livelli Che anche Anche meno Cioè cerchiamo di Di capire perché Dopodiché forse Sarebbe successo in qualsiasi Altra città In qualsiasi metropoli del mondo Sta di fatto che È successo a Milano Milano Rapina in via Farini Al giramondo giapponese Dei social Calci pugni E bici rubata Ma lui dice Non mi fermo Vado in Portogallo Zatsuya Kushiara 19 anni Ha iniziato il suo viaggio Ad aprile Finanziato anche Appunto dai suoi follower Sulle sue pagine Racconta le tappe Dei vari paesi Da Kobe All'Italia Passando per Singapore La Malesia La Turchia La Tanzania Insomma Sta facendo il giro del mondo In bicicletta E dove gliela Ha fatto la bicicletta A Milano Benissimo Sarà contentissimo Il caro Zatsuya Sta di fatto che Appunto Nel suo giro del mondo Incappa In quel di via Farini Dopo essere passato Praticamente ovunque Slovenia Bulgaria Tanzania Kenya Turchia India Taiwan Vietnam Tailandia Malesia Singapore Via Farini Ecco questa è la lista Dei suoi paesi Che ha superato E in via Farini Si è dovuto fermare Perché l'hanno Poveretto L'hanno anche malmenato E gli hanno fregato La bicicletta Con pain Spero Gli abbiano staccato Le borse Gli abbiano lanciate dietro Se no Gli hanno fregato Anche le borse Che aveva su Che vuol dire Tutto quello Che lui ha Per girare nel mondo Sa di fatto Adesso si starà Cioè si mette Così Cerca di trovare Il modo Di trovarsi Una nuova bicicletta Con i follower Sicuramente che lo aiuteranno C'è da dire anche Con tutti i paesi Al mondo In cui potrebbero fregarti La bicicletta In Italia Caschi bene Cioè facciamo delle Gran belle biciclette Quindi Mal che vada Appunto ti fai La bici nuova Che insomma Però no È sintomatica Questa cosa E devo dire Poi va bene Bisognerà indagare bene Capire il percepito E tutto il resto Però vai Musica adesso Beautiful Things Alle 7.41 Crystal Radio Good morning Milano E allora Abbiamo parlato Appunto Della bicicletta Rubata Al povero Tatsuya Kushihara Di 19 anni Appunto L'influencer Giapponese Che sta girando Il mondo In bicicletta Sempre di bicicletta Si parla Ma di Insomma Problemi Magari Nel realizzare Le future Piste ciclabili Da appunto Una dichiarazione Della sindaco Sala Che dice Piste ciclabili Lo leggo Da Corriere della Sera Milano L'allarme di Sala Con l'inchiesta Su Gradelli Si rischia di non farne più I dirigenti Lasciano per paura Delle indagini Torniamo ancora Sul tema Dei dirigenti Che stanno lasciando Il comune di Milano Per paura appunto Delle indagini Nato tutto questo Dal caos Sul mondo Dell'edilizia E sulle costruzioni Che insomma Sono nate Così Con una semplice scia Dovevano essere Strutturazioni Poi invece Sono venuti su Dei palazzi Praticamente nuovi E quindi I dirigenti Insomma Hanno paura A firmare le carte Così dice Il sindaco Sala E sembrerebbe Che ci sia Un fuggi-fuggi Generale Dal comune Inoltre Ci sono anche Le inchieste Infatti Sempre appunto Su questo articolo Di Chiara Evangelista Del Corriere della Sera Dice Il sindaco Dopo la chiusura Delle indagini Per omicidio colposo Sull'ex assessore Alla mobilità Seguito della morte La ciclista Cristina Scozia Del 2023 Dice Se le piste Si possono fare Solo col cordolo Abbiamo chiuso Ecco Però Mi verrebbe da dire Che è stato però Assolto Dopo la chiusura Delle indagini Non c'è ancora Stato Un chiusura Delle indagini Scusate È stato il fatto Che appunto È tempo di riflessione Così dice appunto L'avviso di conclusione Indagini Sulle regolarità Nella realizzazione Del percorso ciclabile Di via Francesco Sforza Solleva alcuni dubbi In capo All'amministrazione comunale Se dovesse passare l'idea Che le piste ciclabili Si possono fare Solo in protezione Cioè col cordolo Noi abbiamo finito Di farle Ha dichiarato appunto Il sindaco Beppe Sala Esprimendo la sua solidarietà Nei confronti di Marco Granelli Che Quando era assessore Alla mobilità Ha firmato la delibera Per realizzare la pista Di via Sforza Su cui ha perso la vita Poi nel 2023 La ciclista 39enne Cristina Scozia Travolta Mentre era in sella La sua bici Da una betoniera Capite Il problema La colpa Non è Della betoniera Ma Dell'assessore Che ha firmato Insomma ecco Direi che a volte Ci sono delle situazioni Che mi fanno un po' Sorridere Nonostante la drammaticità Della cosa Perché davvero Sta succedendo qualcosa Qui comunque Sta succedendo qualcosa Tra potere politico E potere giudiziario A qualsiasi livello Mi viene da dire Perché non è solo A livello nazionale Come sappiamo Che sono una diatriba Tra appunto i giudici E Giorgio Avelloni Ma anche qui Cioè se 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 le indagini Le responsabilità civili Così Vanno a intaccare Tutto quel sistema Beh non è per niente semplice Sta da dire C'è da dire Però che appunto Bisogna anche però Insomma Chi fa le cose Deve fare fatte bene E non è semplice Capire dove sta La differenza E il confine Tra il fare le cose Tra il farle bene E il non farle E spesso Lentieri Può diventare un alibi Per alcuni Non farle Oppure una necessità Per altri invece Difendersi Emi McDonald This is the life Alle 7.48 minuti Crystal Radio Good morning Milano Leggo dal Corriere della Sera Un'altra notizia Perché oggi Gli alunni Della scuola Tiepolo Piazza Ascoli Zona Zona Città Studi Non possono andare a scuola Perché? Perché Milano Appunto leggiamo Dal Corriere della Sera Scuola media Tiepolo Allagata Per la rottura Di un tubo Del riscaldamento Parzialmente Quindi inagibile Lezioni Quindi a turno Oggi credo Che ci sono praticamente Quasi tutti a casa E poi Allora Allora Leggiamo bene Appunto l'Unedi Appunto ieri C'è stata la scoperta Il terzo piano Si è allagato E in fondo al corridoio C'era stato un parziale Crollo del soffitto Del controsoffitto Anche perché appunto Da quell'acqua Del tubo rotto Oggi Resteranno a casa Le classi prime Poi i ragazzi Si alterneranno Quindi Finché non si mette a posto Andrà a giorni alterni Come le targhe alterne Nuovi danni Nelle scuole Dovute alla carenza Di manutenzione Così dice Il Corriere della Sera Questa mattina Appunto Questo è l'articolo Di ieri sera Quindi ieri mattina All'apertura Della scuola Mediatiepolo Dopo il fine settimana Il personale Ha scoperto Che il terzo piano Si era allagato Completamente E in fondo Al corridoio C'era stato anche Un parziale Crollo del soffitto Ciò ha provocato L'allargamento Di aule E di altri locali Al momento Inagibili Al momento Non si può Usare ancora L'ascensore E manca Il wifi In tutta la scuola Credo che il problema Del wifi Sia il minore A questo punto Ma il che vada Un cellulare Da qualche parte Lo si può collegare Episodio Che sarebbe dovuto Alla rottura Di alcuni Dei tubi Del riscaldamento Nel sottotetto Sul posto I vigili del fuoco Chiamati dal preside Antonio Re E i tecnici Della città metropolitana Per rilievi del caso Lunedì mattina Le lezioni Sono saltate Per alcune classi Che sono state rimandate A casa Quest'oggi invece Appunto Mi ha sentito Prime classi Che non potranno Andare a scuola Questo era Achille Lauro Con amore Disperato Come disperata È la ricerca Di una casa Di solito Per chi sta A Milano In qualsiasi formula Che sia Da comprare Che sia in affitto Che sia anche Da amici Per favore Potete ospitarmi Eh no Sai c'ho casa piccola Non posso ospitarti Praticamente Il problema esiste A tutti i livelli E a tutte le fasce Anche Ho scoperto Tra parentesi Ieri Leggevamo Anche per le case Di lusso Eh sì sì Perché sono C'è poca offerta Pensate che roba assurda Cioè per le case Diciamo di noi poveri Mortali Il prezzo è troppo alto Ma per quelle di lusso In realtà C'è poca offerta Perché ci sono Poche case di lusso Cioè Dovrebbero essere di più Per il mercato Che richiede Milano Almeno così dice Ma è uscito un nuovo Secondo Tecnocasa Appunto Che ha fatto un report Leggiamo da Repubblica Milano È uscito appunto Un report Che spiega Che cosa si cerca a Milano E A Milano Chi cerca casa Punta al bilocale È l'unica Tra le grandi città A fare eccezione Ma i prezzi Restano comunque I più alti In Italia Secondo Tecnocasa Il 46,6% Degli acquirenti Cerca un bilocale I prezzi Oscillano Oscillano Tra i 4.300 euro Al metro quadro Per l'usato Ai 5.000 euro Per il nuovo Questo per quanto riguarda La media E signori Vuol dire che se 5.000 euro È la media Vuol dire che Cioè Ci va poco bassi Cioè Non è che c'è tanta roba Sotto i 5.000 euro Perché sappiamo Quanta roba alta c'è Quindi vuol dire Che la Matematica Questa Non ve la so spiegare Perché non so niente Di matematica Praticamente Ma il fatto che Se c'è qualcosa Che costa 100 Per fare la media 5 Vuol dire che ci devono essere Tantissime Che costano Meno di 100 Cioè Meno di 5 La media è quella roba lì Sta di fatto che quindi Se 5.000 euro È la media Vuol dire che siamo Veramente Veramente messi male Comunque Milano È caccia al bilocale Se avete un bilocale Vendetelo a questo punto Poi non so dove andrete a vivere Perché non so cosa farete Non so Però se avete un bilocale Beh avete Dell'oro in mano Oro che non vale Solo per voi Perché a questo punto È veramente complicatissimo Anche Anche riuscire a vendere A questo punto Sarà complicato Riuscire a capire come Far girare L'economia In una città come Milano Diventa sempre Sempre più complicato Hello Living on a prayer Bon Jovi 8 e 12 minuti Crystal Radio Good morning Milano Questo era il Crystal History Perché lo sapete Ogni ora Vi facciamo fare un bel viaggio Nel passato Nel passato della nostra musica Nella musica che amate Nella musica che ballate Sono sicuro che in questo momento Qualcuno era lì Che cantava Col giù il finestrino Tanto non fa freddo No 13 gradi ci sono fuori Tra i 13 e i 15 gradi Ci sono fuori Allora noi abbiamo Lo ripeto ogni volta Abbiamo due monitor in studio Che danno le provisioni del tempo Su uno dice 17 Sull'altro dice 13 E sono configurati Con lo stesso sistema Io vorrei capire perché Comunque vabbè Insomma non fa così freddo Questa mattina Quindi finestrine abbassate Infatti avete cantato Bon Jovi a squarciagola Lungo la circonvalla E magari chissà che anche Gli altri si sono messi a cantare Era famoso C'era un famosissimo video Dove c'era un signore In un parco di San Francisco Se non ricordo male O di Los Angeles Che così inizia a intonare Questa canzone Seduto su una panchina E alla fine nel ritornello Tutto il parco Si mette a cantare Living on a Prayer Di Bon Jovi Beh quali sono quelle canzoni Che comunque Non puoi non avere Almeno sentito una volta E non puoi non avere Dei ricordi legati a quello Ad esempio Sono le canzoni Magari che sono legate Alla strada Che facevi per andare a scuola Allo zaino Che tiravi su E davi contro Ogni volta che salivi Sull'autobus Per tornare a casa da scuola Sono le canzoni Che ascoltavi Quando andavi in università O quando stavi iniziando A lavorare I primissimi Colloqui Le prime giornate di assunzione Nel quel posto là Che mai più ci tornerai Ecco quello là Però c'erano Quelle canzoni lì Che ti aiutavano A superare la giornata Beh insomma E' questo il potere della musica Ed è questo Il potere che ogni mattina Cerchiamo di andare A svegliare Dentro di voi E svegliare Nelle nostre sinapsi In modo che Possiamo collegarci Emotivamente Con le canzoni E darci quella spinta Per capire Wow però Quanto è bello Anche questa mattina Andare a Milano Andare a prendere Tre Nord Andare a prendere L'ATM Andare a prendere Il TAC Scherzo Però insomma La musica fa questo E fa tanto altro Ed è la grande musica Che vi fa cantare Ballare E soprattutto Fare grandi ricordi E soprattutto come dicevo Cantare E appunto Well Barbie Well Barbie Gli acqua Con Barbie Gli acqua con Barbie Gold Alle 8 e 18 minuti Mara Natale 22 ottobre Qui in diretta su Good Morning Milano Milano La città dei render The city of rendering A tutti gli effetti Perché qua si vive Di rendering Lo sapete Tanto che appunto Repubblica Milano Andiamo a leggere Nuovo campus Del Politecnico Alla Bovisa Sono 20 anni Che lo sentiamo Ha firmato L'accordo Con il ministero Finanziamento Da 45 milioni Sugli interventi Sulla goccia Si parte Con i lavori Sugli ex gasometri Repubblica Meno entusiasmo Si parte con i lavori Voglio vedere Quando si parte Diciamo che Arrivano i soldi E si è firmato L'accordo Poi vediamo Quando parte Salvini dice E la frase È fantastica Adoro Perché davvero Il racconto Ormai di Milano È di un Trito e ritrito Che non se ne può più Salvini dice Lo dice Salvini Ma lo dicono anche gli altri Lo dice Salvini Poi dice la stessa Cosa anche Sala Poi dice la stessa Cosa È un racconto Però trito e ritrito Milano Protagonista Dopo un grande evento Come l'Expo Agamo Ci sono passati dieci anni Sono passati ormai Ci sono passati dieci anni La coda lunga dell'Expo L'è finita L'è finita Basta Comunque C'era il ministro Matteo Salvini La firma dell'accordo Tra il Politecnico di Milano E il ministero D'Infrastruttura e Trasporti Per il nuovo campus Alla Bovisa Disegnato da Renzo Piano È stato formalizzato Nell'Aula Magna Di Piazza Leonardo Il cofinanziamento Appunto da 45 milioni Per gli interventi Alla Goccia Il maxi cantiere Che ridisegna Un'area Che aspetta di essere Riqualificata Da anni Decenni Aggiungerei io Traduzione di anni Scommessa complessiva Da 400 milioni Però 45 milioni Non è male Su una superficie Di 325 mila Metri quadri Quanti sono Non ne ho la minima idea Come sempre Lo dico Cari colleghi giornalisti Delle redazioni locali Quando scrivete I metri quadri Pari a Dovete scrivere 325 mila metri quadri Pari a 300 stadi Non lo so Due stadi 18 campi da calcio 7 campi da balzo Non lo so Perché se no Non so minimamente Quanto sia 325 mila Metri quadri Sappiamo malapena Quanto sono I 65 metri quadri Del nostro appartamento Che poi Non si sa perché Ci dicono che 65 metri quadri Poi quando andiamo a misurarli Risultano 45 Quindi insomma 325 mila Metri quadri Non ho idea Di cosa sia L'accordo Fa fede Al protocollo D'intesa Tra il MIT Ministero dell'Università E della ricerca Regione Comune Politecnico FNM E Rete Ferroviare Italiana Che si compone Di 14 interventi Sviluppati In modo coordinato La presenza Di Mietro Salvini Dice la rettrice Donatella Asciuto Sancisce un impegno Importante Da parte del governo Che riconosce In questa iniziativa Un valore straordinario Per Milano E c'era bisogno C'era bisogno Di intervenire Perché sono anni Che non si Faceva niente Su quella zona Invece bisogna intervenire Un progetto Che rappresenta L'Italia del sì Del futuro E del coraggio E vede Milano Protagonista Dopo un grande evento Come l'Expo Queste le parole Di Salvini Il cantiere È avviato E siamo ormai La definizione Dei particolari Dice invece Ferruccio Resta Presidente Della fondazione Politecnico Curatore del progetto Che mostra appunto Le immagini Sull'avanzamento I lavori E sottolinea Che come un gasometro Sia già stato smontato Per essere strutturato Mentre sul secondo Si interverrà in loco Quindi i lavori In realtà Per la messa Appunto Sono già iniziati Vedremo poi Quanto ci metteranno E come andranno a finire Insomma 400 milioni di intervento Sì Grazie per i 45 milioni Di ministero Ma ne mancano Ancora un bel po' Sicuramente Sono tanti I player Che sono In campo In questo caso Per questo investimento È un investimento Importante E finalmente Una bella zona Bella parte Grossa Di Milano Vedrà La luce E vedrà Soprattutto Una grande eccellenza Come quella del Politecnico Avere un nuovo spazio Di espansione Tanti applausi Per Calcuta E tanti applausi Per voi Che ci state ascoltando Qui su Cristian Radio Good Morning Milano 33178535555 Il nostro numero di Whatsapp Che potete utilizzare Appunto Per condividere Con noi Cosa avete fatto Magari nello scorso weekend Cosa farete in questa settimana Cosa avete magari in programma Per il prossimo Fine settimana Fine settimana Che bisogna stare attenti In questo periodo Sta per arrivare Il periodo delle castagne Sta arrivato Il periodo dei funghi Attenzione a quello che fate Non è sempre Così semplice Così facile Sovrattutto Se andate per castagne State attenti a non finire Poi dentro Nei dirupi Vestitevi come bisogna vestirsi Le scarpe Adatte E perché vi dico questo Anche perché Per i funghi Invece oltre Alla problematica Del luogo Quindi di essere Un abbigliamento consono Appunto Avere tutto quello che serve Bisogna anche saperli riconoscere E che è molto molto pericoloso Infatti è successo veramente Un dramma Qualche Questo weekend Perché è successo a Cassano Magnago In provincia Magnano Scusate In provincia di Varese Raccoglie e cucina Funghi venenosi Scambiandoli per Prataioli Morto un 92enne Gravissima La moglie L'uomo ha mangiato Una quantità di funghi Molto superiore Rispetto alla consorte Ed è deceduto La moglie 88enne Invece È ricoverata In terapia intensiva All'ospedale di Bustosizio Dopo aver mangiato Anch'essa appunto I funghi venenosi Raccolti dall'uomo Nelle campagne Diciamo Nei boschi Nei boschi Lì intorno Attenzione davvero Può essere Può essere una cosa divertente Per alcuni Andare a funghi Non so Per me non lo è Ma per molti può essere Può essere un bel momento Anche conviviale Di farsi una bella gita Con gli amici Con i bambini Con i figli Tutto quello che volete Con i cugini e parenti Ma attenzione A quello che raccogliete Non è che potete andare A prendere raccoglierli così C'è tutta una regola Una legge Insomma Io vi consiglio Andate a farvi una bella gita Nei boschi Poi trovate un bel ristorante Andate a mangiare un bel risotto Con i fughi Che funziona sempre Molto bene E ci avviciniamo Ci avviciniamo a Milan Juve Che sarà appunto Il 23 di novembre Ma Perché vi racconto questo? Perché su Repubblica Milano C'è un grandissimo Articolo Su Che cosa succede Per i biglietti Nel senso che Ci sono dei biglietti Stratosferici I costi sono qualcosa di pazzesco Si va dai 479 euro Per la tribuna Onore Rossa 200 euro Per il primo anello 99 euro Quelli più economici Insomma 100 euro Per il stadio I tifosi ovviamente Sono sul piede di guerra Prezzi dei biglietti Per Milan Juve Alle stelle La rabbia dei tifosi rossoneri Folle e irrispettoso I posti più economici Per il match del 23 novembre Costano 99 euro Sui social Monta la protesta Questo Da Repubblica Milano Folle Inaccettabile E irrispettoso Così i tifosi rossoneri Hanno bollato Il listino prezzi Applicato dalla società Per i biglietti Si ritrovano A dover pagare Come un appuntamento Di Champions League Anzi In Corriere della Repubblica Dice Anzi Addirittura Di più I più popolari Come si diceva una volta I più popolari Sono Più popolari Il famoso settore popolari Come viene chiamato una volta Terzo anello blu 99 euro Terzo anello blu Praticamente andate a vedere La partita di Subuteo Cioè quello che vedete Sono degli omini Minuscoli Che Anzi Secondo me 99 euro Più l'abbonamento A Dazonno A Sky Che vi serve Per seguire dal cellulare La partita Perché non la vedete Dalla in alto Quindi Ma si arriva fino Ai 479 euro Per la tribuna D'onore rossa Che ci può stare Nel senso Ma poi Anche 1000 euro Te lo faccio pagare La tribuna D'onore rossa Va bene Forse L'ai in alto Insomma 99 mi sembra Un po' troppo Sta di fatto Che questo Arriva Quando Arriva in un momento In cui la città Non è che sta proprio Facendo la pace Con i tifosi Delle squadre di calcio O meglio Da una parte L'inchiesta Sulle curve Potrebbe in realtà Far pace Con buona parte Del pubblico sano Del pubblico Milanese pulito Sia di Milano Che di Inter E dare anche Una indicazione Insomma Di come la città Vuole bene Ai propri tifosi E invece Dall'altra Non è che colpa della città Però Delle società di calcio Sì Questi prezzi Che fanno capire Come Sempre di più Anche in ottica Di uno stadio nuovo Sempre di più Il mood L'idea Qual è Quella Di portare A dei prezzi Stratosferici Nel senso che Una cosa che succede In tutto il mondo Perché se volete vedere Una partita NBA Anche nel palazzetto Della squadra Più Lasciatemi in termini Sfigata E non esiste E non esiste Una squadra Sfigata Nell'NBA Anche se andate lì Comunque Non è che Vi li regalano I biglietti Anzi Vi pagate Centinaia e centinaia Di dollari Questo è il trend Questo è il nuovo calcio Questo è il calcio Dei nuovi stadio Dei stadi proprietà Del VIP room Degli skybox E questo è quello Che già a San Siro Nonostante Non si vada ancora Nel nuovo calcio Non si vada ancora Nel nuovo stadio Comunque Il 20 novembre Già ci sarà Un po' di sentore Un po' di Un'anteprima Di quello che potrebbe essere Il futuro del calcio A Milano I Beatles Con Drive My Car 8 e 4 minuti Car Che forse Non è servita A questo rapinatore Per riuscire A scappare Dalle forze dell'ordine Ma vi leggo L'articolo Che Repubblica Gli ha voluto dedicare Perché è interessante Ve lo leggo per questo Perché Come ci diceva Il giornalista di Repubblica Che è venuto qua Settimana scorsa Matteo Cagnolani Ci diceva appunto Che Dalla cronaca nera Dalla cronaca anche Della città Si evince Si capisce molto Di come va La società E soprattutto Questa città E allora Inizio a leggere Il pezzo Di Repubblica Che dice Una felpa a pallini E un paio di mutande Utilizzate come scaldacollo Da questi segni particolari Ma non solo La polizia di Milano È arrivata a identificare Un rapinatore Di farmacie Che in soli 20 giorni Aveva messo a segno 8 colpi Tutti In una zona sud Di Milano Un 28enne Con precedenti specifici Arrestato Con l'accusa Di rapina Aggravata L'uomo Agiva sempre Con la modalità simili Viso Spesso Coperto Dalle mutande Scaldacollo Cioè questo Usava delle mutande Cioè capite che Adesso Può essere anche Il più bravo Il lupen Di questo mondo Ma prima o poi Ti si becca Uno che mette Delle mutande In faccia Cioè adesso Ma al suo punto Non c'aveva niente Di meglio Che un paio di mutande Per coprirsi la faccia Vabbè Io credo che Gli abbia fatto un piacere A prenderlo Cioè nel senso Gli abbia fatto un piacere Adesso Lo mettiamo Lì tranquillo Nelle patrie galere E Sta sereno Adesso Magari si metterà Le mutande Per mandare fuori A fare l'ora d'aria Se le mette in testa Non lo so Però cioè Capite che Questo è Cioè Noi siamo in mano No Cioè come dire La nostra sicurezza La nostra insicurezza Anzi No In preda Abbiamo paura Di chi può Delinquere Insomma E ha fatto anche 20 rapine Ma le ha fatte uno Che ci va delle mutande Al collo Cioè capite A che punto Siamo arrivati Altro che lupen Altro che valanzasca Altro che No La mala del brent Quelle cose romantiche Che a volte ci raccontiamo Che sono tremende Tra parentesi Ma che cerchiamo Di raccontarci In maniera romantica Qualcosa puoi raccontare Di romantico Non so Puoi raccontare Che le mutande Erano di pizzo Se vuoi No perché Sennò si vede la faccia Che avevano su Una bella trama Di cuoricini E unicorni Non lo so Cioè Sta di fatto Che appunto Il rapinatore 28enne Accusato di 8 colpi In 20 giorni Quindi anche Un po' Bulemico Nel fare rapine Uno che si mette Le mutande Come scaldacollo Effettivamente Cosa possiamo aspettare Complimenti però Al commissariato Lorenteggio Che appunto I poliziotti Da squadra investigativa Del commissariato Lorenteggio Lo scorso 18 settembre Hanno individuato L'uomo Che si aggirava In maniera Disorientata E nervosa E quindi Poi hanno Individuato E alla fine Sono riusciti anche Ad arrestarlo Hanno capito Chi era E hanno collegato Appunto Gli 8 colpi In 20 giorni Al rapinatore Della mutanda Così verrà Ricordato A tutti Non scrive così Il Repubblica Ma lo aggiungo io Ecco a voi Il rapinatore Della mutanda L'Azza Con Male da vendere Non è male L'Azza Poi è milanista Lo sappiamo benissimo Chissà come sarà contento Dei biglietti Esorbitanti Per la partita Di Milan Jure Quindi da vendere I biglietti Magari li trova anche E riesce magari A regalarne qualcuno Non sarebbe male E invece Per la serie Vi aspetto Al varco Ecco che leggiamo Da Repubblica Milano Che cosa La rete degli ambientalisti Sta facendo A Milano Con il comune La nostra La nostra città Già cementificata Il comune Recupri almeno Gli oneri di urbanizzazione Dai comitati Una proposta di libera Iniziativa concreta Realizzabile Rivedere le autorizzazioni Concesse Senza controlli Il consumo di suolo Va avanti In modo galoppante La nostra città Che è già cementificata Per il 60% La giunta Proceda Per la sua strada La giunta Procede Per la sua strada Senza dare ascolto A chi A Milano Vive Ora quindi Passiamo al Contrattacco Con una delibera Per dire Che non Sappiamo Solo poter stare Ma anche fare proposte Concrete Realizzabili E legali Questa è la parola Di Enrico Rodari Che sintetizzano Appunto il lavoro Degli ultimi mesi Fatti dalla rete Delle decine di comitati Ambientalisti Che si battono Per una città Più verde Rete Che ha annunciato Ieri a Palazzo Marino Questo appunto I contenuti Di una complessa Delibera Presentata In aula Dal consigliere Dei Verdi Carlo Monguzzi Radio Carlo Monguzzi Ebbene sì Infatti Anche sui social Monguzzi Racconta questa storia Si tratta Comunque Della sintesi Degli studi Dei comitati Che i comitati Hanno presentato Anche alla procura Esposte Di cui sono scatturite Poi le indagini Che hanno portato Finora Allo stop Di 15 grandi Progetti Delizi Partiti Con procedure Accelerate E semplificate La delibera Verrà presentata Dal consigliere Carlo Monguzzi Dei Verdi Ed è proprio Un mettere Alle strette Un po' il comune Cioè avete detto Che volete una città Più green La città del futuro È verde Bene Queste sono Proposte concrete Cosa farete Cara Giunta 8 e 55 minuti Siamo arrivati Alla fine Di questa puntata Di Good Morning Milano Di oggi Martedì 22 ottobre E grazie Dei vostri Whatsapp Grazie Dei fiori Grazie Qualcuno diceva Invece Dico grazie Dei Whatsapp Grazie Perché Ci scrive Un ascoltatore Che dice È vero Anche con la M4 Si è persa Un'occasione Per una città Più verde Le fermate Le fermate Sono una distesa Di cemento Eh sì È quello che dicono Anche appunto I comitati mentalisti Di Milano Dopo di noi Lo sapete benissimo Tutti in coro Chi viene con noi Ambrogio Kurti Eh sì Con Senti questa Le 9.05 Dopo il giornale radio La grande musica Raccontata dal bravissimo Ambrogio Kurti Se invece vi siete persi qualcosa Delle nostre puntate Di oggi Di ieri Della settimana scorsa Anche del mese scorso Volendo E non c'è problema C'è tutto C'è tutto Su goodmorning.milano.it E poi anche su Spotify E Apple Podcast Il nostro podcast Con tutti gli interventi Degli ospiti Con tutte le puntate Con tutte le nostre rubriche A disposizione Per voi Sempre On demand La voce che avete sentito Questa mattina No Non era Giovanna Darko Ma ero io Sì Fabio Ranfi Qui al microfono Per raccontarvi Tutto a Milano E darvi appuntamento A domani Dalle 7.09 Qui su Cristiano Radio Goodmorning.milano Ciao